C'è la prima parte, la prima metà buona di questo articolo in cui Don Tullio Rotondo in modo che fa tenerezza continua a dire che lui è canonista, che lui ha studiato, che non ci sono testi canonici che danno ragione al sottoscritto quando non è affatto vero perché c'è la Universi Domenici Gregis dove fra gli articoli 76 e 77 si dice che se la rinuncia del pontefice non avviene a norma del canone 332.2 dove si richiede la rinuncia al munus che non c'è stata l'elezione è nulla invalida. Avete sentito quello che dice il dottor Cionci? Secondo lui io affermo che non ci sono testi canonici che lui riporta eccetera ma questo è ugualmente falso perché io ovviamente non sono cieco vedo quello che lui scrive il punto è che io non ho detto quello che lui dice e lui lo sa benissimo perché l'articolo lo ha letto quindi è un'altra falsità io non ho detto per niente che lui non riporta testi canonici dico che lui non interpreta rettamente i testi canonici perché appunto lui stesso l'interpreta e lui non ha nessuna competenza riconosciuta al riguardo quindi non dico quello che lui dice e lo sa benissimo lui perché l'articolo è chiarissimo quello che io dico è che lui non riporta testi di commentatori di veri esperti di diritto canonico e lui lo sa benissimo perché l'articolo dice questo a meno che non conosca più l'italiano il dottor Cionci allora un altro conto e infatti io qui nell'articolo ecco metto in evidenza come i grandi canonisti ecco i grandi canonisti dicono il preciso contrario di quello che dice Cionci perché? Perché conoscono il diritto canonico a differenza sua aggiungo che il dottor Cionci inserisce un altro errore un'altra falsità e cioè lui interpreta sia la Universi Dominici Gregis e in particolare poi interpreta il canone 332 in maniera del tutto deviata infatti interpreta questi testi lui quando non è un canonista e in particolare l'errore riguarda il canone 332 che non dice affatto quello che dice il dottor Cionci infatti basta vedere qualche commentario di diritto canonico per capire che il dottor Cionci travisa completamente il senso delle parole del canone 332 quindi è una ulteriore falsità che lui cerca di far passare sotto banco perché il canone 332 non dice quello che dice lui e quindi la Universi Dominici Gregis non dice affatto non dice affatto che la rinuncia di Benedetto è invalida quindi vedete come il dottor Cionci presenta continui errori che appunto continui errori e falsità che appunto fa passare in tanti casi sotto banco ma in realtà non possono passare sotto banco a chi conosce un po' la dottrina cattolica posso capire appunto che al dottor Cionci dia fastidio che io ripeta che sono che ho studiato eccetera eccetera e sì dottor Cionci perché la competenza è necessaria se lei non sa le cose non deve parlare se lei appunto non ha competenza su certe materie non può parlarne se lei vuole parlarne deve parlarne sulla base dei veri competenti non è che lei si può mettere in mezzo senza competenza per interpretare il diritto canonico perché è assurdo lei lavora contro proprio la scienza la scienza ci dice che devono essere i veri competenti a intervenire sulle questioni ovviamente no? così si fa la scienza si fa appunto in particolare ecco basandosi anche sulle affermazioni dei grandi esperti soprattutto in questi campi sono assolutamente necessarie per capire bene cosa dice il codice di diritto canonico bisogna vedere quello che dicono i grandi esperti perché sono loro che possono interpretarlo e lo interpretano sotto la guida della chiesa non può essere lei a interpretare il diritto canonico perché lei è incompetente non ha competenza riconosciuta che cosa? quindi vedete proprio come questo signore cerca furbamente di far passare le sue falsità ma non possono passare dottor Cionci queste falsità non passeranno mai lei è in completo errore e diffonde colosali falsità e voglio precisare per quelli che vedranno il video che il canone 332 nella parte in cui parla della rinunzia del Papa non afferma che il Papa che rinuncia debba usare la parola munus nella rinuncia andatevi a vedere quello che dicono i commentatori per capire queste cose il testo già lo fa capire a chi ha una certa competenza in materia ma se voi non vi non volete accogliere quello che io vi dico andatevi a vedere quello che dicono i grandi commentatori io ho visto quello che prima di parlare ho visto quello che dicono vari commentatori e precedenti al 2013 quindi sono commentatori che probabilmente ha consultato anche Ratzinger prima di fare la rinuncia quindi il canone 332 non afferma che la parola munus sia necessaria ad validitatem per la rinunzia nessun commentario dice questo nessun grande canonista nessun testo riconosciuto e appunto avente i primatur della Chiesa afferma certe assurdità che soltanto Cionci e altre persone incompetenti che non hanno competenza riconosciuta affermano ora Cionci queste cose ne sa molto bene perché l'ho detto in tanti video che lui ha sentito quindi lui continua a chiudersi le orecchie eh continua a chiudersi le orecchie e a ripetere appunto in continuazione sempre queste queste totali falsità ma sono falsità sono totali falsità bene preghiamo perché questo signore si converta gloria al padre al figlio allo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame grazie a chiudersi le orecchie